Eh sì, l'amaretto di Saronno è diventato il successo internazionale del momento. C'era da aspettarselo, diciamo la verità, per il suo gusto squisito. E poi anche per questa splendida bottiglia creata dai maestri vetrai di Murano. E come regalo? Eccezionale. Se poi la comprate per regalarla e invece la tenete voi, beh, capita eh. Oh, attenzione però, non è l'originale se non è l'amaretto di Saronno, della Ilva. Grazie.